Bene, buonasera, benvenuti. Io porto il saluto del commissario straordinario che si scusa di non poter essere presente, almeno adesso può essere che ci raggiunga più tardi. E' stato convocato in prefettura, insomma sono momenti un po' concitati per la città di Imola, ma siamo molto contenti di poter ospitare questa iniziativa. In effetti non è proprio quello che avevamo esattamente programmato per festeggiare il bicentenario della nascita di Scarabelli, ma siamo molto felici di ospitare questa iniziativa, di poterla realizzare nel giardino oggi con la dottoressa Baruzzi, il professor Vai, che ringrazio. E quindi, insomma, diciamo che possiamo degnamente festeggiare un sindaco di Imola di tanti anni fa. Quindi, grazie, grazie di essere venuti. Lascio la parola al collega. Si sente? Ok, perfetto. Allora lascio la parola a dottor Rossi. Buonasera a tutti quanti. La farò molto breve, nel senso che stamattina abbiamo iniziato con quel che io ho definito prima manch e il professor Vai mi ha anche pubblicamente redarguito perché ha detto che è un continuo la giornata. Quindi questa giornata va a celebrare 200 anni dalla nascita di Giuseppe Scarabelli ed è stata concepita come una giornata intera. C'è stato lo step, la pausa pranzo, però ci contraddistinguiamo semplicemente per una differenza. Nel senso che stamattina si è parlato di geologia. Oggi pomeriggio si parla di una pubblicazione curata, anche qui in questo caso, i profili biografici dei due relatori. Le conoscete a memoria e non le sto a ripetere. Professor Vai, geologo, Università di Bologna, ex direttore del Museo Cappellini di Bologna, redattore del dizionario biografico degli italiani alla voce particolare Scarabelli, eccetera, eccetera. Una lunghissima carriera che io ho sintetizzato in tre parole. E però lì a fianco c'è la dottoressa Marina Baruzzi, che qua mi devo un po' dilungare. Marina Baruzzi ha collaborato, ovvero io ho collaborato con Marina Baruzzi per quasi 30 anni, ho varcato queste scene in lontano 89, lei era vice direttrice, poi lei chiaramente ha fatto carriera, è diventata direttrice degli istituti culturali e poi dirigente del settore cultura del Comune di Imola. In questo lungo lasso di tempo, oltre a curare il recupero funzionale di tanti spazi, compreso questi spazi qui che adesso stiamo calpestando, il cortile non era praticabile fino alla fine degli anni 90, è diventato ad uso pubblico dopo il 2000. In questi anni si è dedicata anche gli studi scarabelliani e questo mi ha sorpreso molto perché io la conoscevo come una fine umanista e confesso che quando mi sono messo a leggere, finalmente dopo qualche mese di ritardo, questo repertorio che andremo a presentare, mi ha stupito perché c'è una conoscenza dell'archeologia, della geologia, della geologia stratigrafica, dei fittiti senegalesi, che è una cosa incredibile. Veramente da esperto, poi il professor Vai dirà se la mia impressione è vera o meno. In questi anni ha curato tantissime cose, quindi gli studi scarabelliani, i primi studi molto corposi sono stati pubblicati nel 2005, allora onoravamo i cent'anni della morte di Scarabelli, è stato prodotto il primo dei repertori della BIM, quindi il numero 1, 2005, carte Scarabelli, che forniva una descrizione di tutti gli strumenti di studio che abbiamo in questo istituto, dagli inventari per studiare le carte archivistiche, fino ai fondi librari, la cartografia e i disegni che l'istituto ha in possesso. Nel 2005, oltre alla pubblicazione, sono state allestite delle mostre e tante altre iniziative. Quest'anno, come vi è stato anticipato, per ovvi motivi alcune iniziative non siamo riusciti a concretizzarle, in particolare il Comitato Promotore aveva proposto un convegno ad aprile e noi la presentazione che faremo stasera era prevista a marzo, quindi abbiamo un piccolo slittamento dei tempi. L'ho fatto abbastanza lungo, volevo dire che Marina Baruzzi ricostruisce la genesi di un libro che riempie quasi un decennio di scambi epistolari tra questi due scienziati. Nel piccolo, il repertorio numero 9, questo qui, le lettere di Scarabelli e Massalongo, hanno avuto una genesi un po' più cortina, però abbastanza complicata anche questa, perché è nata nel marzo 2018, il Comitato, il gruppo di lavoro per le celebrazioni dei 200 anni è stato approvato con uno degli ultimi atti della Giunta del 2018, non faccio nome perché siamo in silenzio elettorale, subito dopo avevamo già loro un commissario prefettizio, siamo andati in un momento insomma così abbastanza complesso per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica, compreso anche il riperimento delle risorse per poter finanziare la pubblicazione. Quindi nel piccolo la genesi di questo repertorio sulla quale abbiamo avuto il contributo gratuito della dottoressa che da tempo ci ha detto che avrebbe consentito che lo pubblicassimo senza ottenere niente in termini pecuniari e quindi siamo riusciti finalmente a darle alle stampe quest'anno. Ringraziamo la Biblioteca di Verona, che qui è rappresentata dalla responsabile della sezione Archivi Errari, che fa un po' il parallelo con la nostra sezione, la dottoressa Rebonato, se sbaglio, e ottenemmo nel lontano marzo 2018 l'autorizzazione della pubblicazione da parte del responsabile della Biblioteca di Verona, Agostino Contò, che mi sembra che sia già felicemente in pensione, a cui è dedicato anche un ringraziamento. Di sicuro salto tante cose e comunque adesso passo la parola direttamente al professor Vai e alla dottoressa Barruzzi. Mi sono ricordato di una cosa che mi sono dimenticato prima. Allora, oltre allo sforzo di recuperare le risorse per stampare il repertorio, volevo dire, non toccherebbe a me però va fatto, abbiamo la fortuna di avere un personale preparatissimo, quindi ho tanti colleghi che hanno affiancato nella ricerca Marina Barruzzi e le volevo ringraziare pubblicamente. Sono la dottoressa Silvia Mirri, responsabile del servizio Archivi Errare della Biblioteca, l'archivista Simona Dallara che siede lì in ultima fila e un bibliotecario archivista, un tuttologo che è Alessio Mazzini, che ha brillantemente curato l'esposizione che trovate al primo piano, che espone un po' di documenti e anche qualche reperto che ci è stato prestato dal Museo Scarabelli del Museo di San Domenico. Dovrei aver finito. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qua in mezzo a tanti amici che sono venuti a questa festa di Scarabelli. Questa cosa mi fa tanto piacere, anche perché è un'occasione per condividere con voi un po' il lavoro che ho fatto in quest'ultimo periodo, che è stato un lavoro molto piacevole e per tanti aspetti anche molto divertente. Devo dire che la pubblicazione di un'edizione di lettere è un lavoro particolare perché ha richiesto da parte mia più un grande sforzo di medesimazione in un clima culturale e politico così diverso da quello che a me magari era più familiare, ma è un'immersione che è avvenuta nel tempo in maniera molto graduale. Perché, come diceva prima Gabriele, io ho incontrato Scarabelli sotto forma di scrittore di lettere al suo corrispondente Abramo Massalungo tanti anni fa. Avevo letto queste lettere. Tante, perché sono quasi 129 lettere. Tante lettere le avevo lette in maniera veloce, un po' superficiale, perché mi era stato richiesto molto cortesemente di fare una introduzione alla pubblicazione anastatica di un'opera di Scarabelli e Massalungo, che si chiama Studi di Stratigrafia del Sinigalliese e della Flora Flossile. Questa lettura mi aveva lasciato una bella impressione di una lunga relazione di amicizia tra queste persone. Però, devo dirvi la verità, è una lettura un po' di corsa, un po' superficiale. Quando c'è stata l'idea di pubblicare queste lettere, si sono posti alcuni problemi. Anzitutto, questo carteggio ci racconta la relazione tra due persone che si conoscono all'inizio in maniera molto superficiale. Si incontrano a Padova nel 1851. Sono due ragazzi molto giovani. Scarabelli ha 31 anni e Massalungo 27. Sono appena sposati entrambi, hanno appena formato una famiglia. Hanno interessi naturalistici diversi, però molto complementari. Massalungo comincia a interessarsi di paleobotanica e poi si interesserà molto di l'iconologia. Scarabelli sta lavorando in maniera, direi, piuttosto sostenuta allo studio del versante orientale dell'alpennino, la dorsale adriatica. In questi anni matura tra di loro un rapporto fortemente incentrato su un episodio abbastanza casuale, che è questo. Scarabelli ha appena acquistato una notissima collezione di fossili. La collezione che è nota, è molto nota tra i naturalisti. È una collezione molto ricca, che aveva destato l'interesse anche del Gran Luca di Toscana. Noi non sappiamo bene come mai a un certo momento Scarabelli acquista questa collezione. Lui è molto interessato a questa collezione di fossili perché rappresenta un elemento importante per il suo lavoro di carattere stratigrafico e, dopo averne parlato con Massalungo, decide di affidare a Massalungo lo studio di questi fossili. Dieci anni di carteggio che sono praticamente incentrati su questo lavoro complementare, comune e complementare. Io ho intitolato l'introduzione di questo libro Le scienze sorelle. Perché? Vi leggo un pezzettino di Scarabelli. Dice Scarabelli, il codesto deposito geologicamente è assolutamente miocenico, cosicché se tu potrai dall'esame botanico delle filliti avere il medesimo risultato, sarà la più bella prova dell'appoggio meraviglioso che si danno l'un l'altra a queste due scienze sorelle. Ecco, vedete che incominciano a scriversi e si scriveranno in maniera molto regolare una lettera al mese per dieci anni. Questa relazione accompagna lo studio dei fossili di Senigallia, accompagna la vita di queste persone per un decennio. Studiosi molto diversi tra loro. Persone che prima cominciano con un rapporto di collaborazione di carattere scientifico e poi piano piano si sciolgono in una relazione anche più personale che finisce per sfociare in un'amicizia. Questi studiosi si incontrarono solamente due volte dopo il primo incontro padovano. E tutto il loro rapporto si sviluppa nel carteggio. Ora, lo studio di questo carteggio ha presentato a me alcune difficoltà. La prima è che solamente 70 lettere portano un'indicazione di data. Pertanto è stato un gioco abbastanza di pazienza cercare di ricostituire la trafila del carteggio perché le altre 60 lettere non erano datate. La seconda criticità, certamente più importante, è stata invece legata al fatto che noi non possediamo le lettere di Abramo Massalungo a Scarabelli che è un vuoto non secondario in questa relazione. Leggiamo il nome, leggiamo il riferimento a un saggio, ma non sappiamo il titolo del saggio. Leggiamo la risposta a una domanda, non conosciamo la domanda. Leggiamo il riferimento a un amico comune, chi è? Allora, è chiaro che si è innescato a quel punto da parte mia un desiderio e una necessità anche di ricontestualizzare in maniera importante i momenti in cui sono state prodotte queste lettere per cercare di capire, capire meglio il punto di vista dell'interlocutore che per me era muto, che era Massalungo, e anche capire le occasioni, i momenti, anche i momenti sotto il profilo cronologico per la difficoltà di cui vi parlavo sopra. Questo ha fatto sì che io mi trovassi costretta a leggere, dico costretta perché all'inizio ero veramente in difficoltà. ho cominciato a leggere gli scritti di Massalungo. Alcuni sono impegnativi per chi non ha una formazione scientifica, sono difficili. Più passa il tempo, più si prende di investichessa con questi argomenti, più si entra anche in un rapporto più stretto, indiretto, ma più stretto con l'interlocutore. E soprattutto ho cominciato a leggere anche altre testimonianze epistolari di Massalungo. Massalungo scriveva come un matto, scriveva tanto, aveva una scrittura fluviale. Per quanto Scarabelli è asciutto e severo, sorvegliatissimo soprattutto nei sentimenti, e per quanto Massalungo scrive, per quello che ho potuto leggere in lettere indirizzate ad altri interlocutori. Però questo è riuscito di grande utilità per me, perché è chiaro che ci sono dei momenti della vita in cui si affronta un tema, dei momenti in cui si incontra un problema. E questo, magari riferito ad altri colleghi, a Devisiani, a Meneghini, ha aiutato un po' a ricomporre, insomma, questo contesto che per me era abbastanza difficile da mettere a fuoco. Un aspetto che noi a volte dimentichiamo è che la documentazione archivistica spesso ha una vita imprevedibile. Tutti noi riceviamo un sacco di mail tutti i giorni. alcune le cancelliamo, alcune le lasciamo lì perché ci interessano, altre perché per pigrizia, perché ce ne dimentichiamo. Penso che il tavolo di uno studioso, il tavolo di un naturalista non fosse molto diverso. Le lettere già al momento in cui vengono ricevute dal loro destinatario, a volte abbiamo destinatari più accurati, che raccolgono pazientemente, anche in maniera molto puntuale, le loro missive. Altre volte no, altre volte questo non accade. Nel caso di Massalongo e di Scarabelli siamo di fronte a due persone certamente molto puntuali nella conservazione della propria documentazione. Di Massalongo possiamo dirlo in maniera, diciamo, forse più facile, fra virgolette, perché purtroppo Massalongo è morto molto giovane, 36 anni, e lui stesso affide il suo carteggio alla biblioteca civica perché venga conservato. È pur vero che questo affidamento avviene tramite un intermediario, che è un amico, e non sappiamo bene se questo intermediario abbia poi mantenuto tutte le carte o abbia fatto una scelta, però, insomma, c'è un affidamento diretto. Nel caso di Scarabelli la trafila è più lunga, perché le carte di Scarabelli arrivano in biblioteca solo una trentina d'anni dopo la sua scomparsa. Però noi sappiamo che Scarabelli ancora nel 1892, cioè 40 anni dopo la morte di Massalongo, ancora conservava le sue lettere. Lo sappiamo perché Capellini le ha lette. Dice di averle lette. Pertanto io immagino che, come dire, nella manomissione è inevitabile che la trafila conservativa comporta, però noi ci troviamo di fronte comunque a due studiosi molto attenti, molto precisi. L'ultima cosa che vorrei dirvi è questa. Di questa relazione ho cercato qualche traccia, anche in maniera un po' insistente, perché non mi rassegnavo a trovare niente di Massalongo. Della sua relazione con Scarabelli non ho trovato molte cose. Ho trovato però alcune cose anche di grande interesse e anche tenere. La prima sono delle piccole annotazioni minuti. Scarabelli è una scrittura minutissima, alta un millimetro. Su un fascicolo di disegni che gli manda Scarabelli pone delle piccolissime annotazioni, o la determinazione di alcune specie, oppure di piccoli appunti o delle crocette per indicare gli esemplari che gli servivano per studiare la collezione. Abbiamo un foglio di contratto, diciamo, per la pubblicazione che stanno preparando insieme, che è tra le carte Massalongo, ma è scritta da Massalongo e riguarda questa relazione. Abbiamo i cartellini che si trovano sopra le foglie fossili che oggi sono conservate al museo. Questa è una richiesta che gli fa Scarabelli. È una richiesta bella perché gli dice questa frase, che adesso non ricordo la memoria e ve la voglio leggere. Non me la voglio leggere. Gli dice, mi piacerebbe che rimanesse memoria del tuo lavoro, cioè del lavoro di determinazione dei fossili, di studio di questi fossili, sui cartellini che questi fossili porteranno nel mio museo. Pertanto, diciamo, queste piccolissime tracce sono veramente molto poche. Forse un altro ancora, sono dei disegni che Massalongo manda a Imola, con una piccola annotazione di sua mano. Invece a Verona mi è capitato di trovare tracce di Scarabelli in altri punti dell'archivio Massalongo, e cioè degli schissi di alcune aree che Massalongo e Scarabelli visitarono insieme nella zona vicino a Recoaro. Devo dire che mi ha fatto una certa impressione di familiarità incontrare un piccolo taccuino nero con sopra scritto album, in lettere dorate, e sfogliarlo vedendo una scrittura che mi era molto familiare. E ho pensato, e là, un pezzettino di Scarabelli è rimasto ancora a Verona, chiuso dentro questo taccuino. Probabilmente l'escursione che loro fecero insieme fu l'occasione per tracciare negli schissi da parte di Scarabelli. Questi schissi furono tracciati sul taccuino di Massalongo, che più tardi li utilizzò anche per uno studio di carattere geologico sull'area di Recoaro che stava conducendo. Vedete che questo lavoro si poggia su tracce molto fragili, molto piccole, forse per questo che Rossi giustamente diceva ho letto tutto anche le note con un senso di pesantezza e devo dire che effettivamente questo lavoro è un lavoro un po' pesante da questo punto di vista. però posso invocare alcune attenuanti. La prima è che il contatto con le archiviste poi lascia le sue tracce. L'altra è che nella letteratura che riguarda Scarabelli molto spesso si è un po' tralasciato il ricorso alle fonti e quindi insomma mi è parso anche di una qualche utilità offrire a chi leggerà queste lettere con molta più competenza di me e cioè ai geologi e ai paleobotanici l'opportunità di ritrovare puntualmente le informazioni nelle fonti archivistiche che ho consultato. anche agli immolesi. cambiano le cose allora io ti vorrei dare un compito Marina nel frattempo in cui io comincio a chiacchierare sarò un po' più lungo di Marina e ben più lungo di stamattina però mi sopporterete perché c'è poco da fare il compitino di trovare la citazione dei cartellini perché è importante per me io non lo ricordo bene il tempo ce l'hai per farlo. allora aggiungo un'ultima cosa prima di passare la parola a Giambattista perché poi non avrò più l'opportunità di farlo no 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 puoi fare in ogni momento tu mi puoi interrompere in ogni attimo per dirvi questo che queste lettere di Scarabelli trentenne mi sono tanto piaciute anche perché al di là della sua riservatezza proverbiale e grandissima serietà personale ogni tanto per fortuna anche lui si lascia andare a qualche sbocco di umanità che mi è tanto piaciuta noi siamo abituati nelle immagini a vedere lo Scarabelli senatore insomma Scarabelli importante, lo Scarabelli personaggio allora sentite questa scrive nel 57 caro amico Giavinastro io ancora per salute, per abitudine e per progetto sono stato in tutti questi giorni occupato in cacce, pranzi e divertimenti campestri per modo che la scienza io avevo messo in noncale come un'anticalia che male si confà alla gioventù e al vivere spensierato ora ho finito è ripresa la gravità di accademico riprendono per conseguenza le mie abitudini cittadinesche scrivo agli amici e colleghi e mi sappellisco nel mio studio tomba dell'uomo pensante che è l'anticamera dell'altra in cui come dice la scrittura stanno egualmente gli asini e gli uomini mi ha fatto un asti che neanche il miglior centrocampista potrebbe fare un centro avanti perché questo è appunto il primo punto che mi è derivato dalla lettura curata per ben due volte prima del manoscritto poi del testo stampato appena è stato stampato e mi è stato passato con grande gentilezza in maniera che mi potessi preparare questa sera in questa immagine voi vedete a sinistra Abramo Massalongo in un bel disegno a matita che devo alla cortesia dell'amico e collega Guido Roghi che è lì in seconda fila vedete le date e quel disegno è pubblicato in una guida dalla famiglia Massalongo Massalongo da parte di Curi, un noto pubblicista veronese e sulla destra invece vedete un'immagine di Scarabelli che devo invece alla cortesia del dottor Giacinto Ortolani di cui in futuro sentirete parlare avrete già sentito parlare avrete già letto dei suoi interventi sulla storia varia del Imolese e delle sue famiglie in particolare sui fratelli cerchiari e così via, sui Toschi tanto più che lui è sposato con l'ultima discendente dei Toschi famiglia importante nel Imolese nella figura di Antonio Toschi grande amico e alter ego quasi per certi aspetti di Scarabelli è un'immagine che prima che io la vedessi da Tortolani prima che Tortolani la pubblicasse non figura da nessuna parte poi naturalmente la Marina l'ha inserita in un'altra versione e su questo tornerò un po' più avanti è un'immagine che non rappresenta la figura di Scarabelli come noi la concepiamo io sono sussultato nella seggio quando l'ho vista quando l'ho fatta vedere al professor Mattei che doveva fare aveva l'incarico di fare quello che è risultato poi il miglior bronzo di Scarabelli esistente fra l'altro stamattina ci siamo dimenticati di esporlo faccio vegne anch'io per fortuna che non era presente però che sappia che può capitare anche di questo a noi che ci bazzichiamo intorno a queste cose siamo tanto preoccupati di tanti aspetti però decisamente quella non è la posa di Scarabelli dove nasce? nasce nel 1867 in un hotelier de pose in un fotografo parigino quando Scarabelli è a Parigi per l'esposizione universale dove prenderà anche un premio e dove espone le sue carte geologiche al 50.000 manoscritte e per questo prende un premio siamo anche benedetti da qualche goccio di pioggia dottor Rossi lui ha il piano B e il piano C ma non preoccupatevi passerà niente è chiaramente una posa diciamo non gliel'ha imposta il fotografo il fotografo molto parigino ha capito che poteva fare la sua figura però rappresenta uno Scarabelli che è lo Scarabelli della scampagnata e della mangiata o lo Scarabelli giovanile diciamo che anche lui mostra una sua umanità di questo genere sembra quasi un'immagine da esibizionista di fatto non lo è però sembra e io ero non dico scandalizzato ci vuole altro per scandalizzarmi ma ero sorpreso bene per quello che dico il libro serve per prima cosa ai cultori bolognesi di storia patria perché se leggi il libro troverà tante cose che gli faranno scattare la lampadina mi ha fatto scattare una lampadina che adesso in due parole vi rappresento e che si trova in una lettera che dieci anni prima Scarabelli aveva scritta a Massolongo quando dovevano incontrarsi per la prima volta alla stazione di Verona e non si conoscevano allora come si fa adesso si dice andiamo all'edicola di io ho il naso lungo e sono pelato oppure io ho una chioma bellissima alla Ellis Presley no? più o meno siamo su questo ecco sì bene scrive Scarabelli quando vedrai quando vedrai sortire un uomo col palto riuscite a leggere qualcosa spero col palto verde scuro barba intera guanti bianchi e cappello gibus per i giovanotti cappello gibus vuol dire una tuba un cappello a cilindro inventato dal signor gibus in realtà preesisteva anche nel settecento però il signor gibus ne ha variate le dimensioni quindi l'ha fatto più imponente il giubus è un francese e borsa da viaggio al collo dovrai intuonare non intuonare intuonare la forma aulica il tedeum ora l'apparente mangia preti Scarabelli che aveva uno zio prete era naturalmente perfettamente profondamente intriso nonostante l'atmosfera antipapalina di questa regione o di queste Romagne tanto da fare riferimento a un tedeum con la massima naturalezza il massimo dell'onore della solennità del canto che merita una intuonazione è per farsi riconoscere e non è certamente uno Scarabelli molto diverso da quello che pare in quella fotografia che mi aveva scandalizzato aveva 38 anni quando scriveva questo 58 rispetto alla fotografia del 67 dopo vi dirò perché sono certo che la fotografia è del 67 ma ancora prima sempre a massa lungo Scarabelli scriveva la cosa mi sapeva dall'aristocratico vi risparvio qual era questa cosa e come tale non faceva troppo per me ora Scarabelli è un perfetto aristocratico in tutta la sua vita no dalle origini ai titoli ricevuti eccetera trascorsi però in realtà lui nega questa aristocratia Scarabelli è certamente un borghese è anche gentiluomo come borghese ma di fatto in questa affermazione di sei anni prima a 32 anni è già un perfetto popolare è il significato più profondo che questa parola ha quindi a leggere le lettere si comincia a scoprire il carattere di questa persona e dell'insieme della sua opera di cui e lo citerò dopo di nuovo è stata inventata l'addizione il mistero Scarabelli e l'ha inventata Stefano Marabini noi ci dimentichiamo troppo di quello che Marabini ha inventato a riguardo di tutta la storia di Scarabelli bene ma c'è un piccolo mistero che si aggiunge a quello più in generale e più importante e che fa proprio riflesso alla versione di questa foto che giustamente Marina ha utilizzato per il suo bellissimo libro ponderoso non pesante bellissimo libro lei utilizza una foto una copia della foto originale che un fotografo uno fotostudio padovano L. Caporelli fa nel 1900 ora io mi chiedo e l'ho chiesto anche a Guido come faceva il figlio di Massolongo il primo figlio di Massolongo Caro come faceva a disporre di questa foto quando suo padre era già bello morto e questa foto è stata copiata dall'originale nel 1900 quali strani giri sono intercorsi era la moglie di Massolongo cioè sua madre che per una qualche ragione sette anni dopo che che il marito era morto ha richiesto a Scarabelli o ha richiesto a Imola da parte della famiglia o di qualcuno questa foto un poco strana di Scarabelli cioè mi piacerebbe approfondire questo mistero per vedere e dissolvere e di vedere per quali strade questo fatto è capitato ecco questa è una delle immagini più rutinarie di Scarabelli più aderenti a quella che è l'idea che noi abbiamo del suo carattere di persona molto ordinata molto riservata che è dietro a tutto ma che non appare non è una rivista non è uno che cerca ambissi i primi posti finisce per dover occuparsi di tutti i problemi cittadini ma lo fa senza mostrarsi questa foto ha 52 anni perché è del 72 e la deva ancora la cortesia dei signori della signora Toschi e dei Giacinto Tortolani che la conserva religiosamente nella sua collezione anche se è nota e più o meno riprende all'incirca quella del famoso ritratto di Tommaso della Volpe che anch'essa è un mistero perché io vorrei chiedermi per quale motivo della Volpe l'ha fatto e quando soprattutto l'ha fatto perché della Volpe è molto più giovane di Scarabelli non l'ha fatto certamente Scarabelli vivente l'ha fatto ben più tardi ma sarebbe interessante l'ho chiesto alla Claudia di indagare di vedere se c'è per caso dietro scritto o indicata la data di esecuzione allora per cercare di quadrare un po' le cose di dimostrarvi perché quella foto scandalosa di Scarabelli è del 1867 vi faccio questa cronologia fotografica di Giuseppe Scarabelli che serve anche a Giorgio Bolognesi per inserirla poi nel sito del comitato promotore che per due o tre anni dovrà almeno rimanere in piedi dove c'è un qualche cosa di analogo ma senza il contenuto la classica foto di Scarabelli in museo e scusatemi in senato lui c'è nel 60 e la foto del 64 vedete Scarabelli è un giovane prestante un bell'uomo eccetera una foto a cui non so dare una data penso che neanche i tortolani sia in grado di darla la foto del 67 a Parigi e la foto del 72 se voi guardate tutti i vari elementi lunghezza dell'orecchio che è un elemento fondamentale per dare un'età al procedere dell'età di una persona stempiatura o meno colore dei capelli e così via vedete che la foto indagata la foto anomala di Scarabelli non può essere che del 67 perché nel 58 l'altra volta in cui lui è andato a Parigi avrebbe avuto più capelli e avrebbe avuto un altro aspetto quindi questo testimonia che quella foto è del 67 la seconda volta in cui lui va a Parigi e quando fra l'altro ripassa di nuovo da Verona ci passa nel 58 nel 55 nel 55 ci passa nel 55 e prende accordi con Massalongo e così via allora due carteggi di Mezzatti cosa vuol dire? vuol dire che questo carteggio purtroppo abbiamo cercato da tutte le parti per vedere di trovare fra gli eredi Scarabelli o chi ha avuto a che fare con Scarabelli l'altra metà del carteggio cioè noi conosciamo le lettere di Scarabelli a Padova o a Verona a Massalongo ma le risposte di Massalongo e Scarabelli non le conosciamo o le domande di Massalongo e Scarabelli non le conosciamo e questo è uno dei limiti uno dei gravissimi problemi che Marina è iussito con la sua abilità di archivista finissima a superare però il problema rimane ma c'è un altro carteggio di Mezzato che non è così imponente come questo 129 lettere più 130 la trentesima e alla moglie dopo che Massalongo è morto è il carteggio Gastaldi Scarabelli che dura di più perché andrebbe dal 48 andrebbe va dal 48 al 77 quindi esplora un intervallo di vita di Scarabelli in cui questa è la ragione più importante io ero così curioso chiedendo sia a Romano Guerra che a te di approfondire di accelerare la trascrittura l'ordinamento cronologico delle lettere perché si sitono tutti e due questi carteggi nel momento più produttivo della vita di Scarabelli il decennio 50 prima che la politica lo assorba e poi continuerà a lavorare a ritmo più lento ma continuerà a lavorare anche come scienziato dopo che la politica lo deluderà in maniera radicale ma quel decennio il 50 è il momento in cui Scarabelli fa più cose su tutti i piani e anche sul piano scientifico allora io ero curioso di cercare di capire di vedere se Scarabelli avesse fatto un qualche richiamo un qualche rimando a quello che io reputo l'opera fondamentale di Scarabelli che è precedente la grande opera di Scarabelli non i grandi volumi perché il grande volume non i grandi volumi adesso ci arriviamo che noi abbiamo anche di cui abbiamo pubblicato le ristampe anastatiche ma l'opera fondamentale di Scarabelli è la scoperta dell'archeologia preistorica e il fatto che a Imola ci fosse una scuola di questo tipo e che era in competizione contemporaneamente senza che si conoscessero con altri due competitori il primo altro competitore era d'Abville una cittadina ancora più piccola di Imola nel centro della Francia di nuovo condotta da un non accademico da un amatore ancora più amatore di quanto non fosse Scarabelli relativamente accademico seppur al di fuori dell'accademia a Imola e l'altra scuola invece accademica francamente accademica dei danesi è Copenaghen queste tre scuole negli anni criticissimi del 44 1848 Unruhe Dursgangs Europa cioè instabilità nell'intera Europa rivoluzione da tutte le parti con un qualche ritardo di uno due o tre o quattro anni pubblicano le loro opere che fondano l'archeologia preistorica cioè l'archeologia dei tempi lontani l'archeologia e l'antichistica sono materie vecchie antiche ma si limitano alla storia ai greci arrivano al massimo ai geoglifici degli egiziani e si fermano lì poi saltano nel mito e la preistoria non c'è non esiste un'archeologia preistorica l'archeologia preistorica nasce a Copenaghen con una scuola di numismatici nasce in Francia con una scuola di personale di Dugana come le Duganier il grande pittore Rousseau e a Imola da una scuola geologica ed è per quello che di queste tre scuole quella di Imola è sempre quella con qualche anno in ritardo però non così in ritardo perché i fratelli cerchiari e i toschi cominciavano a raccogliere materiali armi antiche e fossili che oggi non ci sono più grandi resti di ossa di rinoceronti di elefanti eccetera che convivevano con questi presunti uomini antichi che producevano le loro armi di pietra paleolitico un terzo di questa roba è nata a Imola con una scuola che non aveva niente a che fare con l'università Scarabelli si stava preparando si era preparato in università anche ma il nucleo di questo lavoro è extra universitario ed Imola in quel momento è sulle prime pagine d'Europa con un solo limite un solo problema Scarabelli era troppo buono non si è mai preoccupato della sua immagine sia scientifica che politica in senato facevi disegnini era un abilissimo disegnatore no? cioè Scarabelli era un vero aristocratico intellettualmente era una persona superiore a tutte queste cose e 40 anni dopo si diverte a dire ma dice sì io ho avuto la fortuna 40 anni fa di trovare alcune di queste cose che adesso tutti mi ammirano è questa la storia che non conosciamo ancora di cui gli molesi dovrebbero essere fieri e gli italiani e che speriamo pian piano Luigi alla sua occasione di adesso ho antecipato alcune cose che verranno dopo ma non importa allora che cosa ho trovato mentre guardavo le lettere di Massalongo e di Scarabelli del carteggio Scarabelli-Massalongo io mi sono guardato con attenzione un carteggio sono 35 36 lettere sono un po' meno che era già stato visionato in particolare da Stefano Marabini eccetera però con la solita fretta perché ci sono 100.000 cose da fare ci sono 100.000 Marabini per tutta la sua vita ha vissuto facendo il geologo non facendo il ricercatore o il professore universitario o l'archivista dentro le biblioteche profumatamente pagata della Stato bella vita no? e allora non potete pretendere che Marabini abbia trascritto tutto e studiato tutto anche se di fatto è lui che ha tirato fuori il mistero Scarabelli anche questi sono i misteri Scarabelli o i misteri della cultura emolese caro Walter allora anche in quel carteggio non ho trovato praticamente niente ma ho trovato una cosa ben precisa se voi parlate con gli archeologi qui abbiamo la fortuna di avere uno c'è ancora Balle sembra che l'archeologia bene sembra tutti da Tarantini a Paciarelli a il maestro di Paciarelli come si chiama Peroni eccetera e hanno perfettamente ragione l'archeologia in Italia nasce con Gastaldi nel 1861-62 ma è l'archeologia dell'età del bronzo o successive cioè è un'archeologia preistorica sì ma della preistoria più recente la vera archeologia preistorica quella dei tempi antichi quando l'uomo conviveva con le belve l'ha fatta Scarabelli dieci anni prima e c'è questo mistero perché anche gli archeologici pur riconoscendo che Scarabelli dieci anni prima aveva iniziato come vedrete dopo ripetere in qualche lettera e nessuno se n'è ricordato ma perché se voi non continuate a ricordare alla gente che avete fatto qualche cosa per primi difficilmente l'altra gente si ricorderà che voi l'avete fatto per primi si ricorderà di averlo fatto per secondi e diventeranno i primi i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi allora nel 67 appunto l'anno incriminato Gastaldi il 10 di gennaio scrive carissimo amico eccetera avrei dovuto scrivere ti restituisco dunque la carta da te comunicatami ho imparato che a metà ottocento comunicare a qualcuno un pacco era il verbo giusto la comunicazione non era verbale non era di immagini era anche di materiale comunque e in tutte queste lettere in ogni due lettere Gastaldi chiede a Scarabelli qualcosa e Scarabelli tranquillamente gli manda gli regala gli permette o gli lascia degli originali e gli lascia fare tutto quindi Scarabelli era un pezzo di pane da questo punto di vista non salvaguardava il suo prodotto cercava di farlo ritornare nel suo museo questo sì ma a lui personalmente non gli interessava di nulla e infatti Gastaldi è un abile parlatore è un cattolico e come tale sa prendere in gira anche Scarabelli è il fratello dell'arcivesco di Genova ed è uno dei grandi nomi grandi amici praticamente è la longa manus di Quintino Sella scrive bontà sua a Scarabelli da te comunicatevi con quella cortesia ed amorevole generosità che in te è natura questo è Scarabelli questo è il ritratto vero di Scarabelli fatto da un amico che conosce per filo e per segno tutti i meriti di Scarabelli l'ha sfruttato e lo sfrutterà fino in fondo e dice pane pane e vino al vino cortesia amorevole generosità che è per te natura di cui tu sei fatto però lì c'è l'originale quindi potete controllarlo grazie a Silvia Mirli che un giorno mi ha lasciato fotografare tutto il carteggio c'è sempre in quei carteggi che fotografai sempre in quel giorno in cui venni cinque lettere di cui due particolarmente importanti di Mortier a Scarabelli allora Mortier è quello che lavorando con Gastaldi ha introdotto praticamente l'archeologia dell'età del bronzo in Europa è uno dei grandi personaggi dell'archeologia europea da francese organizzatissimo dotatissimo eccetera che quindi figura per uno dei maggiori allora nel febbraio del 69 da un primo riconoscimento di Scarabelli cioè lui sapeva benissimo quello che Scarabelli aveva fatto negli anni 50 e prima e dice noi facciamo qui al museo di Saint-Germain de Pré che è il grande museo di archeologia a Parigi una biblioteca speciale nella quale vogliamo riunire per così dire tutti i titoli scientifici di tutte le persone che si sono occupate di archeologia preistorica quindi vuol dire che prima non c'erano e loro vogliono fare la raccolta voi dovete comprendere da ciò quanto noi saremmo felici di possedere il vostro lavoro sulle armi di pietra antica dell'imolese pubblicato a Bologna nei nuovi annali nel 1850 quindi 17 anni dopo in Francia sanno che è stato pubblicato questo lavoro che però non hanno avuto Scarabelli non ha neanche pensato di fare 20 estratti 50 estratti pagandoseli e mandarli in giro per l'Europa perché perché Scarabelli pensava quello che stava facendo aveva milla o cento altre cose da fare in quegli anni piuttosto che farsi di questo ma se uno scienziato non si occupa di questo le sue priorità vanno al vento e in più desidereremmo anche assai molto possedere quindi le vogliamo dei modelli degli oggetti del vostro museo il museo dimola ragazzi soprattutto le ascie di forma Santa Shell quindi le più antiche quello dell'asceleano quelle di Abbeville quelle della scuola di Giedepert il caposcuola della scuola di Abbeville le punte le forme di tipo musteriano le due età che si ritrovano ancora nei materiali conservati nei materiali della preistoria antico conservati qui quelle tutte lisce su una faccia e ritagliate nell'altra e infine l'ascia in bronzo ecco alla fine solo ci aggiunge anche i materiali del bronzo di cui lui mortier è esperto e che coltiva insieme a Castaldi insieme agli altri insieme alla nuova ondata dei archeologi europei per metterli in questo museo di Saint-Sermé l'originale ma ancora più importante è questa che è dell'88 quindi quasi 20 anni dopo 21 anni dopo la stazione preistorica del monte Castellaccio a Bale è sottolineato da mortier è un'opera magistrale ben degna dell'illustre sapiente studioso iniziatore del preistorico cioè della creologia preistorica italiana allora intendiamoci bene signori voi i francesi li conoscete li conoscerete se ci sono tre scuole al mondo di cui una è francese una è danese e una è italiana un cultore di quella materia non vi spiaccicherà mai neanche di fronte al caposcuola il fatto di riconoscerlo come tale ma subito di declassificarlo un pochino solo a livello di quella nazione però non vuol dire che lui non sia al corrente ma vuol anche dire che Scarabelli non ha fatto nulla per fargli presente che lui è uno dei tre capiscuola quindi non solo caposcuola a livello italiano ma caposcuola a livello europeo e infatti lo potete capire fatta questa tara di tipo nazionalistico e di tipo chauvinistico francese perché se lo meritano c'è poco da fare d'altra parte se lo meritano anche perché ne hanno ritagliato tutti i benefici andate a vedere tutti i quadri italiani della scuola bolognese del 600 che formano la grande galerie di Louvre c'è più scuola bolognese c'è più i fratelli i grandi fratelli del 700 del 600 i grandi Carracci c'è più Guidone Reni c'è più Aspertini c'è più insomma mettete insieme tutti i nomi della grande scuola bolognese e ferrarese anziché a Bologna li trovate a Louvre e in vari altri musei europei allora continua ancora e dice è una morografia modello riferendosi sempre al scavo del Monte Castellaccio le vostre profonde conoscenze geologiche vi hanno dato delle abitudini eccellenti di osservazione precise e minuziose che sfortunatamente fanno sovente mancanza non ci sono nei nostri colleghi che sono dei semplici paletnologi questa è è una tirata terribile per gli archeologi moderni e per i paletnologi allora paletnologia era una sorta di sinonimo di archeologia preistorica cioè riconosce lui che capisce un poco anche di geologia e ha studiato Scarabelli che il fatto che Scarabelli sia un caposcuola deriva dal fatto che ha innestato sulle ricerche del gruppo di ricerca dei fratelli cerchiari le conoscenze della geologia cioè ha dato le basi stratigrafiche a questa archeologia preistorica eccetera va bene io su questo primo ho scritto in Italia in italiano sette otto anni fa nell'undici nel quattordici e nel diciannove ho scritto un lavoro in inglese in una delle grandi riviste americane che tratta di storia della scienza e pian piano vedrò le reazioni ma ritorno adesso al nostro oggetto perché anche per tutta questa serie di interessi miei personali dei cerchi in questo momento senza il libro di Marina mi sarebbero voluto mancare alcune delle informazioni pertinenti e mi chiedo un altro mistero perché Scarabelli dal 51 e quindi è fresco fresco continuerà ancora a scrivere dei lavori nel 53 52 di precisazione statigrafica della archeologia preistorica perché non ne ha fatto un cenno con Massalongo un bel testone Scarabelli intendo i misteri allora senza il libro di Marina il carattere intimo di Scarabelli non lo conosceremmo e il mistero Scarabelli rimarebbe ancora più oscuro e quindi qui ci sono numerosissime lettere io ve ne tiro fuori due non tirate fuori due o tre ma ce ne sono a Bizzef delle 129 io credo che più della metà possono essere un caso di studio per approfondire questo aspetto che non è marginale per la popolazione imolesi anche per gli scolari imolesi Walter poi ci sono tutti gli interessi specialistici ma quella è un'altra cosa adesso ci vuole un po' di storia ve la faccio ma ci vuole un po' di storia perché Scarabelli poco dopo il 1911 quando gli hanno messo la targa qui in piassetta Scarabelli gradualmente è stato dimenticato per ragioni svariate anzi ripetiamo quello che dicevamo prima il museo è stata la sua fortuna perché il fatto che gran parte dei suoi scritti del suo materiale e dei materiali fossero o in degli armadi chiusi eccetera ombrosi spolverosi e in scatolato negli scantinati di questo museo di questa biblioteca lo ha salvato dalla devastazione post bellica immediata però la riscoperta l'ha fatta lui fra una perissia e una relazione geologica e l'altra andando a cercare noi dovevamo scrivere qualcosa per quel libro di Romagna il libro di Romagna è sfortunato perché il primo volume è uscito in qualche biblioteca c'è il secondo volume non è neanche uscito e la tiratura credo che si era andata al macero però in qualche biblioteca quel libro fra l'altro vedete curato da un altro marabine da Walter della Monica esiste e non fumo troppo modesti perché impostiamo immediatamente la riscoperta di ciò che Stefano andava rileggendo in fretta negli scatoloni via via che li apriva lo riponemmo in dialogo in alternativa addirittura con Leonardo che peraltro in Romagna ha fatto tanto e quindi è del tutto logico però ci vuole del coraggio per fare questo nel 1986 e vedete che ci sono i documenti relativi quello è stato il colpo di riapertura della rivalutazione e della riproposizione di Scarabelli a tutto campo perché ne sono seguiti con la fortuna della venuta a Imola di un archeologo coi fiocchi giovane ma coi fiocchi come era Paciarelli e con l'opera di queste giovani badesse io le chiamavo dei due conventi cioè la Marina Baruzzi e la Claudia Pedrini sponsor munifico il direttore della cassa di risparmio del tempo Pirazzoli che qui tengo a ringraziare ma oggi purtroppo per altri motivi non è a Imola uscirono quei due volumi che sono due opere che quando voi le mostrate a Parigi o Londra dice ma si può avere e gli dico certamente purtroppo vi dovete arrangiare con l'italiano perché allora non operavamo in bilingue però si possono avere e c'è ancora gente che richiede e continua a chiederle e anche oggi ne hanno chieste due addirittura sia la preistorica che quella geologica quindi c'è Stefano Brini ha dato origine ad una stagione di ricerca e di studio da parte delle istituzioni e da parte degli appassionati che è stato fruttuoso tant'è che nel frattempo c'è stata anche Merlini che ha dato il suo contributo con la sua monografia sulla vita di Scarabelli nel 99 così che diciamo si stava preparando un mucchio di materiale per il centenario per il primo centenario cioè il centenario della morte 1905 2005 e il centenario è stato prodigo di risultati senza dubbio io ho cominciato qui per ragioni di date con le ristampe anastatiche delle grandi opere grandi anche nel senso che sono dei volumi delle opere monumentali l'opera di Massalonghe Scarabelli è effettivamente un'opera monumentale fra l'altro è un'opera che se voi andate in ambito paleobotanico è citata ancora oggi in tutta Europa che vuol dire in tutto il mondo perché è un caposaldo nella storia dello studio delle specie botaniche la carta di di San Marino 48 addirittura una delle primissime carte geologiche con i fiocchi italiane con sezioni con stratigrafia con tutto e è stata una data straordinaria anche la prima opera di Marina una vita da scienziato perché qui si che a suo tempo ho fatto qualche critica perché è un po' arruffato questo repertorio mentre questo è ordinatissimo quindi c'è stata un'evoluzione anche in Marina non sono mica d'accordo è un buon tema per parlarne dopo ma quella è la miniera che ha permesso il tutto se Marina non aveva quello non ci metteva dieci giorni per ricostruire la cronologia delle lettere non datate perché lì dentro c'è tutto fate un po' fatica a trovarlo forse questo voleva dire Rossios nel commento magari in questo caso potrebbe essere appropriato comunque quello è stato un altro dei caposaldi che ci ha permesso di fare il primo centenario come si deve con un solito incerto perché in mano non si lasse mancare nulla quando eravamo al centenario caro assessore in questo caso sto sull'istituzionale il museo era di nuovo in scatoloni perché doveva per ragioni di fondi di lavori edili di ristrutturazioni eccetera doveva ancora trovare la sua nuova sede e quindi abbiamo fatto il centenario con i materiali però per fortuna c'erano tutte queste opere che ci hanno consentito poi di recuperare una buona parte di questo negli atti del convegno che allora facemmo e che fu diciamo il primo convegno che ha riproposto e riconosciuto non solo a livello locale ma a livello nazionale l'opera di Scarabelli che naturalmente era nota ah sì sì certo tutti l'avevano detto però nessuno ne parlava e finalmente invece si sono resi conto che l'opera c'era e c'era ancora e che ci consente adesso ci consentirà adesso di riproporre quando riusciremo a fare il convegno che abbiamo in programma a livello internazionale anche la cosa anche perché nel frattempo varie opere sono state pubblicate in inglese o in bilingue per cui siamo più attrezzati questo è sono gli atti del convegno del primo centenario che ha affrontato anche una panoramica almeno di tutti gli altri meriti non solo quelli scientifici geologici e archeologici di Scarabelli l'ha già accennato Marina il seme di quest'opera che celebriamo oggi è nei risultati di quel primo centenario perché proprio io invitai Marina a fare la prefazione alla ristampa anastatica della flora del seno gallese Massalongo Scarabelli quel volume monumentale di cui qui non abbiamo portato copie ma che potete trovare nelle biblioteche e se voi andate a leggere quella prefazione che è calibrata come si deve perché Marina quando scrive sa che cosa scrive Marina dice se di Abramo Massalongo tra le carte di Scarabelli pervenute alla biblioteca comunale di Imola non restano tracce di tale intensa relazione è invece testimonio e privilegiato un corposo nucleo di documentazione costituito da 130 129 più 1 lettere che Giuseppe Scarabelli inviò all'amico veronese oggi conservate presso la biblioteca civica di Verona una ricca testimoniale che ci permette di seguire passo passo la storia di un libro e di un'amicizia ecco allora nel 2004 l'aveva promessa oggi l'avete in mano cosa volete di più? io nel frattempo mi aveva sollecitato il fatto che avevo visto copia fotografica di questa lettera da parte di Romano Guerra che è un appassionato di queste cose che conosce bene la biblioteca di Verona perché la frequenta per altre sue ricerche di tipo geologico e quindi tutti i due signori più guidoroghi sono già stati convocati e scritturati per il convegno illustreranno in maniera approfondita e Marina avrà un'altra occasione per parlare ancora di questa ma non sono ancora in fondo Marina ci sono quasi però allora il primo merito è il fatto che lei l'abbia riscoperto poi dopo l'ha riscoperta anche Romano Guerra però nessuno a Imo parlava del fatto che a Verona ci fossero queste 130-129 lettere quindi è un merito suo e non è da poco il secondo merito è che il lavoro archivistico che c'è dietro ma è un lavoro archivistico logico e temporale cronologico che non è da tutti prima di tutto bisogna essere Marina Baruzzi per farlo cioè un archivista finissima di grande esperienza nelle grandi in grandi biblioteche e quindi riordinare questo lo può fare chi ha queste doti ma soprattutto chi ha già speso anni per fare quel repertorio che io prima ho criticato per una certa eterogeneità e che invece è fondamentale dopo ci torniamo dopo ci torniamo allora ha ragione il dottor Rossi è un volume imponente solo 185 pagine sono dedicate per metà alla trascrizione delle lettere e per la metà alle note ma le note sono la cosa più preziosa a me non piacciono le note a pie pagina e tantomeno le note in fondo io da scienziato noi non usiamo il sistema delle note è un sistema diciamo che qualche scienziato reputa obsoleto ma che in qualche maniera è utilissimo soprattutto in casi in cui Marina documenta le ragioni per cui a quella lettera ha dato quella data ed è una cosa strepitosa perché è andata fino a Palermo a prendere le lettere di parlatore riuscire a discriminare tutta questa fitta ragnatela di contesti in maniera che ci sia una logica poteva riferirsi ai vari campioni di cui parlavano e andare in museo e andare a vedere il cartellino e i cartellini e quindi lo capite perché un lavoro di questo genere lo poteva fare solo lei e capite perché di nuovo salta fuori che Imola è al crocevia della scienza europea lo era già stata prima per l'archeologia preistorica lo è di nuovo ancora perché qui si tratta di tutta materia che si sviluppa fra Imola e Verona e Massalongo prima e più che a Torino a Padova o a Bologna anzi Bologna ne rimane quasi completamente totalmente fuori e saltano fuori delle cose di un interesse straordinario perché voi vi immaginereste Scarabelli è la impersonificazione della persona non legata al denaro e integerme in tutti i conti non ho mai avuto problemi di questo genere tant'è che il furibusutiere di Cappellini lo sceglie come tesoriere del congresso di geologia internazionale che farà a Bologna nell'81 e non gli dà neanche il contentino di mettere un'escursione al Monte Castellaccio per cui Scarabelli aveva preparato una carta come ha fatto vedere stamattina Stefano Ambrini al 5000 nel 1881 pubblicare una carta geologica al 5000 è qualcosa di inimmaginabile bene Scarabelli ha un cumulo di problemi a mandare i materiali che ha Imola delle sue collezioni a Verona o a Padova perché perché sono degli altri Stati e come ricorre che cosa ricorre a un'infinità di sotterfugi per combattere l'ingorda burocrazia doganale addirittura con il contrabbando ha degli amici tedeschi i quali sono di sopra di ogni sospetto possono passare la dogana in preteriti e affida al bagaglio del tedesco insomma siamo a questo livello in questo Scarabelli ha anticipato Cappellini che pochi anni dopo riesce a portare un inglese a Padova e a visitare la località di Padova proprio per il tramite di designio che era podestà di Padova che allora era ancora sotto gli austriaci quindi immaginate Scarabelli contrabandiere e senza le lettere trascritte e tradotte in dettaglio queste informazioni che sono utilissime sul piano della storia di una città e della sua cultura non salterebbero fuori e della figura di un personaggio come Scarabelli poi c'è anche un tocco d'arte questa volta nel libro che risalta moltissimo risalta anche dalla copertina che è magistrale proprio ma giustirale anche in termini di visual imaging noi con Guido Rovi abbiamo fatto una conferenza online internazionale pochi giorni fa a Bologna con 411 presentazioni su sale parallele quindi immaginatevi un poco noi trattavamo anche l'aspetto della visual imaging che per i geologi è in caso io parlavo di Aldrovandi parlavo di Marsili non ho avuto il tempo di parlare di Scarabelli ma avrei potuto benissimo parlare di Scarabelli e prendere questo esempio allora questa serie di sezioni geologiche una decina 10 o 12 mi sembra Marina che Marina ha riportato in versione pulita dalla biblioteca grazie grazie veramente io a suo tempo ho scritto al dottor Contò invitandola anche a venire le manifestazioni ci sarebbero state a Imola e l'invito lo può riproporre lo ripetiamo anche per lei sono di una bellezza di un interesse straordinario in parte si trovano anche in un altro tacuino che è esposto qui oggi anche nella mostra e che sarebbe interessantissimo mettere a confronte evidentemente Scarabelli ha fatto un'escursione con Massalongo nel Recoarese che è una zona di importanza basilare pensate il paleozoico in Italia è poco esteso io sono uno dei pochi esperti perché ho dedicato la mia tesi i primi 20 anni di vita scientifica al paleozoico italiano che si trova solo in Carnia in Sardegna in Toscana e in Calabria e un pezzettino di quello carnico si trova distanziato nella zona di Recoaro si chiama il paleozoico Recoarese ora per me sono di un interesse strabiliante e dopo ve lo commenterò anche in maniera particolare perché oggi ho parlato di tutto sia stamani che qui e poco di geologia ma adesso qui c'è ancora qualche geologo voglio parlare 5 minuti anche di geologia ed è l'ingrandimento di questa che è l'immagine di copertina che dà il là a questo libro allora per i geologi ma anche per il volgo perché capire queste poche parole è consentito anche a voi vedete che sulla destra io ho fatto una serie di denominazioni che si riferiscono a ciò che è rappresentato nell'oggetto allora nell'oggetto voi vedete che c'è una base lì in basso grigia con delle pieghette quello è il classico simbolo la simbologia per indicare delle rocce pieghettate come quelle che vi vedete quando andate alle opuane è una roccia metamorfica che ha subito pressioni al di sopra di 500 kb quindi spaventose e temperatura al di sopra di 500 600 800 gradi quindi la roccia si è cotta si è semifusa e si è pieghettata sotto le pressioni poi ci vedete che c'è al di sopra una specie di rivestimento marrone di spessore disomogeneo che continua anche dall'altra parte della valle ma è più in basso quindi è spostato se è spostato vuol dire che lì in mezzo ci passa una faglia che Scarabelli non ha messo per pudore forse ma che forse aveva capito d'altra parte quella faglia è la ragione per cui a prebele che vedete indicato lì ci sono già indicate le prime costruzioni di prelievo dell'acqua curativa di Recoaro dell'acqua termale di Recoaro e degli impianti adiacenti nel piassale delle termi di Recoaro quindi lui aveva già capito tutto perché fa gli schizzi perché Scarabelli quando andava in campagna schizzava tutto è un geologo che osserva come riconosceva Mortigliei 30 anni dopo e perché li colora perché a sera quando ha finito l'escursione ha i suoi acquarelli e li colora perché il colore dà l'età alle rocce mentre i simbolini danno le caratteristiche della roccia alla litologia e chi capisce di geologia e sa di geologia riconosce immediatamente il cristallino di Recoaro il cristallino della zona agro di Recoaro cioè il paleosoico più antico d'Italia vicino alla pianura padana vicino a Vicenza in sostanza al di sopra c'è questa specie di crostone quel crostone sono delle ghiaie ma non sono le ghiaie di ogni tipo sono delle ghiaie ben precise che in letteratura geologica si chiamano le ghiaie o il conglomerato di Ponte Gardena io queste cose le ho studiate le ho pubblicate in anni molto lontani e sono uno specialista della tematica ce n'è un altro tipo di queste ghiaie in cui oltre a trovare i ciotoli fatti quasi tutti solo di quarzo quindi sono ciotoli bianchi o biancastri ci sono anche dei ciotoli rossi voi che andate a sciare in Val Gardena e vedete i porfidi conoscete i porfidi della Val Gardena ma tutti voi che in ogni cortile d'Italia conoscete i porfidi i porfidi attesini quelli rossi di cui si fanno dei blocchetti o si fanno delle piastrelle perché sono già piastrellati per via del raffreddamento è una roccia vulcanica che viene a giorno e quindi si raffredda rapidamente e tutte quelle montagne rosse che vedete quando da 30 arrivate a Bolzano sono porfidi ce ne sono 2000 metri quindi le cave di Val Degna ce ne sono che potranno continuare a rifornire tutti i pianerottoli d'Italia o tutte le piazzette d'Italia per millenni per secoli per ere geologiche ecco ciottoli di quei porfidi si trovano in un conglomerato che è il conglomerato alla base delle arenarie di Val Gardena che qui scarabelli giustamente colora di arancio tutte belle stratificate sono arenarie continentali ma già abbastanza vicine al mare al di sopra ci sono i primi fossili marini il verde e sono i calcari a bellerofon guido al di sopra c'è della roba viola che è la formazione di werfen conosciuta in tutta Europa al di sopra ancora con lo simbolo dei calcari vedete quelle barrettine verticali dentro agli strati ben delineati è quello che oggi noi chiamiamo calcari di relicoaro che al tempo scarabelli chiama col termine tedesco perché era austro-ungaria allora il muscel muscel vuol dire molusco il calcari moluschi allora è una strabiliante descrizione con l'orientamento tutto i gradi nord sud est oves eccetera ma la cosa più importante vedete io ho scritto fila di del paleosoico ed è il metamorfico sotto e poi in rosso ci ho messo discordanza perché al di sopra di queste fila di pighettate c'è quella roba marron che non è pighettata e non è metamorfica quindi in mezzo ci possono stare da 2 a 10 a 100 milioni di anni anche forse di più ma non mi firmo qui perché se voi guardate le renarie di Val Gardena cioè questi strati gialli qui in basso a sinistra vanno a sbattere contro quella massa marron cioè vanno a sbattere contro i conglomerati e gli vanno sopra quindi anche lì c'è una discordanza allora adesso noi lo sappiamo perché dentro i conglomerati da altre parti in Carnia c'è un mucchio di fossili anche fossili marini e sappiamo che quel conglomerato il primo quello disegnato da Scarabelli in quella massa marrone ha età permocarbonifera siamo fra 300 305 e 290 milioni di anni fa mentre invece le renare di Val Gardena sopra hanno 220 230 210 e così via sono molto più giovani quindi qui ci sono due discordanze e la discordanza importante che è quella che si evidenzia dal disegno di Scarabelli è quella che in tutte le Alpi viene chiamata la discordanza arcinica che è un nome importante perché sta a significare che le Alpi hanno subito prima di subire la deformazione attuale per cui quando andate nelle Alpi occidentali vedete i marmi o i marmi delle Apuane che sono dovuti alla orogenesi alpina che avviene a partire da 120 milioni di anni e termina circa 30 15 milioni di anni fa ha avuto un'orogenesi precedente ben più antica che termina verso i 300 milioni di anni ed è indicata da Scarabelli lì allora uno dei compiti di Stefano Mariani nel ristudiare questi disegni compararli con quelli che sono qui in Mola eccetera è di ristudiare la storia di questi disegni andare a vedere se si vedono ancora con l'ausilio e l'aiuto di Guido Roghi e soprattutto individuare se con questo disegno del 1800 quando vanno 58 Scarabelli è il primo che evidenzia la discordanza elcinica del cristallino di Rocaro che sarebbe una cosa non trascurabile coraggio coraggio non sono ancora in fondo ma ci sono quasi l'ultimo regalo che Marina mi ha fatto è in realtà me l'avevo anticipato di pochi mesi prima che l'abbia letto nel tuo originale anche la copia una copia che mi aveva dato Romano Guerra è questa lettera che vi leggo per esteso di Scarabelli in morte di Giuseppe Cerchiari allora Giuseppe Cerchiari della dinastia dei Cerchiari è il più quello che trova più Robin diciamo il più prossimo alla scienza veramente muore pochi giorni prima e il 25-5 del 58 Scarabelli scrive e si ritiene in dovere di scrivere di condividere queste sue sensazioni con l'amico il giovane amico Massalongo scrive giorni sono è morto proprio da geologo guardate questa è strabiliante come che ci sia un modo di morire cosa vorrà voluto dire arrivati in fondo lo trovate quel mio amico che si occupava della raccolta delle ossa fossili attenzione i tre quarti della raccolta di ossa fossili e di armi preistoriche che figurano nel museo Scarabelli le ha raccolte Giuseppe Cerchiari e le ha date in eredità a Scarabelli perché le studiasse le preservasse e Scarabelli le ha utilizzate bene e che per testamento ha voluto regalate al nostro comune questi che si chiamava Cerchiari in età di 75 anni tornava dall'aver raccolto alcune ossa aveva i poderi qui poco sopra il circuito alla casa alla villa Cerchiara tornava dall'aver raccolto un'ossa quando preso da improvviso malore al cuore che lo costrinse a mettersi a sedere sotto una capanna riavultosi alquanto cominciò a parlare al suo servitore c'erano ancora i servitori allora che erano magari i contadini i mesadi eccetera della bellezza dei nostri colli d'altra parte allora a 75 anni uno si poteva permettere anche di avere un servitore riavutosi alquanto cominciò a parlare dal suo servitore della bellezza dei nostri colli e della serenità del cielo che gli permetteva di distinguere i colli e ugani c'è un aumento dell'acuità visiva dopo l'inizio di stroke questo è medicalmente riconosciuto d'altra parte in maggio è ancora possibile da quelle quote riuscire a vedere le ultime nevi sul sul monte baldo sui primi monti del sopra arco sopra torbole e così via a questo punto del discorso e sì che gli permetteva di distinguere i colli e ugani questo certamente a questo punto del discorso ha muto lì e si spense giammai il caso ha favorito tanto completamente ai desideri di un uomo che parlando meco tante volte della sua fine la desiderava tranquilla e placida in mezzo all'altare della natura questa è la morte da geologo la morte da naturalista come anche Scarabelli ha un funerale accompagnato dalla scolaresca dell'asilo infantile non da altri e i due cani dietro la scolaresca questa è la morte di un grande uomo al di sopra del comune livello mentale degli uomini e notate bene dopo lontano dai singulti o dalla gioia dei parenti l'ossendere e il salire per la truscale vedo qui o nel tutto l'insieme un bel brano di prosa manzoniana poco dopo voi che siete del mestiere potete sindacare sulla ipotesi con la sola compagnia di una coscienza illibata ora ragazzi se non faceva questo lavoro Marina come facevamo noi a leggere lettere di questo genere e a capire che cos'era Scarabelli e però neanche in questo io ho trovato un riferimento a ciò che mi premeva il che vuol dire che per capire quali sono le ragioni di questo mistero dell'archeologia preistorica dovrete tornare alla prossima volta alla prossima lezione quando faremo il famoso convegno arrivederci grazie a voi adesso puoi commentare tu ecco vedete lo schizzettino di Scarabelli corrispondeva effettivamente alla casa dove ci sono le prese di sorgente di recoaro e quelle specie di abitacoli dove si facevano le cure del male questa ancora oggi è una foto recente ecco bene grazie grazie a te grazie a loro che hanno assistito grazie per averci fatto compagnia e soprattutto leggetelo questo libro a piccole dosi a piccole dosi avete una lettera sera quindi andate avanti per un bel po' grazie a te grazie a te la giornata Scarabelli è il compleanno virtuale di Scarabelli il duecentesimo compleanno virtuale e il ricordo di Scarabelli in questa giornata è stato unitario fra tutte le istituzioni o i gruppi che a vario motivo istituzionale amatoriale eccetera se ne occupano con il contributo della fondazione Cassa di Risparmio e con la regia e il beneplacito delle istituzioni comunali così sono contenti tutti e effettivamente noi abbiamo sempre cercato di operare in maniera unitaria perché in questa maniera vedete c'è un reciproco scambio c'è un feedback che è molto propositivo poi se nessuno ha delle domande o dei commenti noi siamo qui se no arrivederci al prossimo convegno quando sarà possibile farlo in presenza piena c'è qualcuno che ha salato la mano? ecco ho sentito ho sentito con grande piacere vieni davanti così sento ho sentito con grande piacere che la piccola patrista vuole organizzare un convegno internazionale su scarabello vi raccomando caro Gian Battista di non dimenticarci dei fratelli cerchiati perché se già il nostro scarabello può essere considerato tra i primi paletnologi a livello mondiale lo dobbiamo ai fratelli cerchiati che per me risultano la punta di diamante della tecnologia italiana le ragioni per cui il buon scarabello dopo l'articolo del 1850 non si interessa più però muore in quel momento bisogna però dire che i scarabelli gli stati dei suoi li dice le avevano ma però non le avevano manate forse io e poi devo dire un'altra cosa che scarabelli è un uomo costumato perché ne ha lavorato una una città che ha lavorato un ingrediente salordinario perché il buon scarabello ha trovato una piccola città ma molto attiva e personaggi che ci sono dati da fare per valorizzare ora non voglio criticare la signora che viene dalla splendida biblioteca civica di Roma che ha un capitale archivistico da spagno però io non conosco le matematiche della biblioteca civica a tanto materiale che a parte il mascialongo che è considerato il primo grande paleobotanico d'Italia meriterebbe una maggiore insomma quindi ci auguriamo caro Giambattista che quando tu organizzerai il prossimo movimento anche la biblioteca civica di Verona si presenterebbe ecco contribuisca bene a dare al nostro Scarabelli per averne poi un reciproco riscontro una cosa veramente meravigliosa questo gemellaggio fra Ivole e fra Verona perché è un incontro tra un grande geoleo e un grande paleobotanico poi perché Scarabelli non parlò mai di preistoria a basso lo vedremo al pubblico vi ringrazio siamo curiosi grazie che è un'altra che è un'altra geologo amatoriale paleontologo amatoriale che ha fatto molti lavori molte ricerche a livello regionale di Gnano Romagnolo soprattutto di Marchigiano altre domande l'invito che ha fatto vale per tutti vale per Imolo vale per Canerone vale per Padova vale anche per Tortolani vale per Imolo soprattutto per i cerchiari perché i cerchiari indubitabilmente meritano io aggiungo una piccola cosa a proposito dei cerchiari che Scarabelli era molto consapevole dell'importanza di questi ritrovamenti e la cosa che a me è persa molto interessante e anche singolare è questa Scarabelli aveva dei rapporti molto disinvolti con i professori dell'Università di Bologna e allo stesso tempo anche un po' conflittuali un po' di acrimonia insomma ci sono diverse battute molto salate a proposito dell'Accademia Bolognese però dice i professori di Bologna non vi rispondono mai vi guardano dall'alto della loro torre meritatamente detta degli asinelli oppure dice non parlatemi di questi professori ci siamo anche noi Massimo sai dentro allora è un tono un po' salato però la cosa bella è che comunque Scarabelli continuano ad avere rapporti molto stretti e molto diretti con gli accademici bolognesi vi faccio il caso di Alessandrini grande Alessandrini presidenza dell'Accademia delle Scienze insomma un personaggio strepitoso Scarabelli gli scrive alcune lettere che sono conservate dal Bioteco Universitario di Bologna veramente divertenti e gli scrive per dirgli devo restaurare delle ossa di rinoceronte per il mio amico Cerchiari ma non so bene come metterle in fila mi potrebbe dare un libro dove io vedo trovo una colonna vertebrale oppure gli scrive dopo qualche tempo vorrei comprare il Cuvier quanto costa si trova in giro cioè è straordinario come Scarabelli abbia questo rapporto di grandissima disinvoltura di diretto con i professori bolognesi e nello stesso tempo soffra così tanto poi di essere escluso in realtà dall'ambito universitario direi che lui fa delle critiche in maniera anche espressante certamente ma sono critiche di fatto vere la ragione per cui è Scarabelli al centro dell'Europa non sono i bolognesi i miei amici i miei predecessori è oggettiva cioè lui è talmente al di sopra del normale livello valutativo e scientifico degli scienziati del tempo dei sapienti del tempo degli studiosi del tempo che si rende conto che non sono a un livello adeguato adeguato soprattutto dal nome che abbiamo provato in altra parte questo tu vai a leggere le lettere di Marsili e del suo fratello il primicerio vai a leggere le lettere dei corrispondenti di Aldrovandi e così via c'è una ricorrenza ogni 50 anni nell'università di Bologna è in crisi per svariati motivi sono molto diversi in alcuni per nepotismi in altri casi per mancanza di soldi in altri per questioni di tipo politico fra le varie famiglie che non sono più d'accordo però c'è sempre quest'up and down di qualità di variazione del livello di qualità dell'università e in quel momento il livello dell'università di Bologna era decisamente basso per cui non penso che lui si senta escluso lui li tratta a pari e li giudica per quelli che sono perché con quelli con cui vai particolarmente d'accordo ha anche una sorta di rispetto per esempio con Bianconi certo con Bianconi c'è una collaborazione in quel gruppo lì è l'unico personaggio che si eleva di un certo livello non è rimasto tanto in storia perché Bianconi ha avuto la fortuna di trovarsi dalla barricata sbagliata la fortuna diciamo ma bene bene signori grazie a voi Dina Scarabelli e grazie Marina Barussi per questo bel libro veramente che merito solo elogio grazie a voi grazie a voi